Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dedicata all'estrazione del Superanalotto. Chi possiede oggi, giovedì 18 giugno, la ricevuta della giocata del Superanalotto può vincere 17.221.186 euro. Sono già iniziato l'operazione relativa al concorso numero 73. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente e il numero jolly sono state caricate. Con l'autorizzazione della commissione di controllo, diamo Moral via l'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urno elettronico e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo insieme a scoprire il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 62. E in arrivo il secondo numero. Il secondo numero estratto è il numero 84. Al terzo numero si inizia a vincere. Il terzo numero estratto è il numero 28. E in arrivo il quarto numero che ci porta verso il premio importante. Quarto numero estratto è il numero 21. Quinto e penultimo numero. Quinto numero estratto è il numero 18. Con il sesto numero la sestina è completa. Il sesto numero estratto è il numero 90. Abbiamo i 6 numeri che possono assegnare il jackpot. Passiamo ora all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. Il numero jolly di questa sera è il numero 41. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly. 62 84 28 21 18 90 Numero jolly e numero 41. Ora passiamo al numero super stare. Il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della convaide della giocata può far vincere i premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro. E la sua estrazione verrà grazie a questa seconda urna elettronica già caricata con le sfere dall'1 al 90. E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che il numero super stare premi anche lo 0, l'1 e il 2. Moltiplica 25 volte le vincite del 5 e 100 volte quelle del 4 e del 3. numero super stare di questa sera è il numero 48. Ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 73 del super analotto con la sestina vincente in ordine crescente. 18, 21, 28, 62, 84, 90, il numero gioia è il numero 41, il numero super stare è il numero 48. E l'estrazione di oggi giovedì 18 giugno termina qui. Tra qualche minuto scopriremo insieme se il jackpot di oltre 17.200.000 euro è stato assegnato a uno più vincitori. E noi vi aspettiamo sempre qui su SESA TV, la rete in diretta con la fortuna. Ben ritrovati su SESA TV, la rete in diretta con la fortuna. Pochi minuti fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso numero 73 che vi ricorda messo in palio il jackpot di oltre 17.200.000 euro. E anche questa sera il super analotto ha numerosissimi premi per voi. Infatti abbiamo 55.692 vincite. Ma ora è arrivato il momento di scoprire insieme se ci sono uno o più fortunati vincitori del jackpot. E il computer ci comunica che non è stato realizzato il 6 né il 5 più 1. L'unico 5 si aggiudica 184.022 euro. I 4 sono 537 e vincono 347 euro ciascuno. I 3 sono 21.659 e vincono 17 euro ciascuno. Ora passiamo a super stare il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 e premia anche con 0, 1 e 2 punti. Vediamo nel dettaglio tutte le quote. Nessun 5 stella. I 4 stella sono 4 e vincono 34.710 euro ciascuno. I 3 stella sono 122 e vincono 1710 euro ciascuno. 100 euro vanno i 1.541 e 2 stella, 10 euro i 10.031 e 1 stella e 5 euro i 21.797 e 0 stella. E ora è arrivato il momento di scoprire insieme il jackpot del prossimo concorso. 17.700.000 euro. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e superanalotto vi dà appuntamento a sabato 20 giugno sempre qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Grazie.